la parola del vangelo di oggi ci descrive il grado di unione del figlio con il padre l'amore che lega le due persone divine e vivo e da vita e lo spirito santo che trasforma tutto quello che tocca gesù cristo è colui che il padre ha mandato nel mondo per salvarlo egli si è fatto uomo per la volontà del padre e fa il bene a tutti perché l'immagine del padre tra noi gesù fa brillare il padre attraverso la sua trasparenza e semplicità gesù è il nostro modello di perfezione cristiana ci insegna ad amare malgrado tutto e a fare del bene nonostante gli ostacoli che possiamo incontrare sul nostro cammino ci invita inoltre a non lasciarci influenzare dal giudizio degli altri se viviamo la nostra vita come dono vedremo la vita fiorire dentro di noi e saremo anche noi uniti al padre così come Gesù come influisce su di te il giudizio degli altri senti nel tuo cuore di essere immensamente amato dal padre celeste cosa significa per te vivere da figlio amato di dio